Ciao a tutti, io sono Nico Pistolesi e sono qui per ricordarvi che venerdì 18 alle ore 21 presenterò il mio nuovo album Home sui canali YouTube e Facebook in Premiere per Piano Sharing Italy. Suoverò qualche brano di questo nuovo disco e vi racconterò come è nato questo progetto. Venerdì 18 alle ore 21. Vi aspetto.